E con grande piacere questa mattina che diamo il benvenuto nei nostri studi a Fra Orazio Renzetti, assistente OFS dell'Abruzzo che appunto in questi giorni sta predicando nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Pace bene Fra Orazio e benvenuto. Pace bene, grazie anche a voi. Ben trovato, stavamo ricordando prima a microfoni spenti che nel 2007 insieme abbiamo curato una rubrica per Padre Pio TV, l'alfabeto della famiglia che ci ha visto andare in giro diciamo sul gargano per raccontare alcune parole appunto legate alla famiglia e quindi non è, non sei nuovo a San Giovanni Rotondo, sei stato più volte ospite nei nostri studi, sei il predicatore appunto di questa settimana di quaresima. Qual è il tuo legame con il santo di Pietrelcina Fra Orazio? Bene, io ho conosciuto meglio la spiritualità di Padre Pio nel 1989 quando avevo già comunque nel cuore la consapevolezza della scelta. Ero stato a fare un'esperienza in un convento cappuccino a Spello e lì ho compreso dopo quattro anni di discernimento che la mia strada era forse quella tra i cappuccini e non conoscendo bene le origini, diciamo così, le varie dislocazioni delle province e sarei tornato a Spello. Poi ho conosciuto i frati cappuccini di Pescara Colli, un santuario della Madonna dei Sette Dolori dove io sono nato e sono cresciuto però non conoscevo nulla di quel santuario e quindi una mia carissima amica, la signora Anna Di Fino, mi ha fatto conoscere ecco padre Guglielmo Limonti dal 6 di maggio dell'89 e poi ho cominciato a frequentare il gruppo di preghiera e diciamo che da allora ho conosciuto grazie anche appunto alla comunità, alla fraternità di Pescara Colli, a padre Guglielmo, la figura di padre Pio da Piedercina che poi ho cercato sempre un po' di approfondire anche attraverso i suoi scritti dell'epistolario anche grazie a qualche così intervento con voi, la penna dell'anima e altre cose insomma. C'è una massima, una frase potremmo dire fra Orazio che potremmo utilizzare per riassumere il tuo cammino sacerdotale ma potremmo tranquillamente poi estenderlo e vorrei anche che tu ci aiutassi a commentarla, non conta aver fatto molto ma aver fatto il proprio, ecco come ci commenteresti questa frase? Ho cercato di capire quello che ogni giorno è la volontà di Dio, ognuno di noi credo che nella giornata abbia i suoi progetti, i suoi programmi, giornata, settimana, mese, vita, però deve essere pronto ad accogliere anche i cambiamenti, le variazioni e questo secondo me, ho sempre pensato questo, che sono gli interventi di Dio per una crescita, perché noi quando programmiamo la giornata in genere mettiamo solo quello che ci è comodo, quello che ci piace insomma, però a volte accadono degli imprevisti e la duttilità, la docilità nell'accogliere imprevisto e saper leggere come una sfida, questo mi fa comprendere che è una crescita, il molto è questo, non soltanto mi accontento del proprio, di quello che faccio io, ma se riesco a capire che Dio comunque vuole metterci la sua parola, il suo intervento e cerco di seguirlo, questo mi aiuta. Lo posso dire oggi come un bilancio, come una verifica, perché ho visto che quando tante volte ho lasciato fare a lui, mi sono trovato meglio e ho visto anche nella mia vita, grazie a questo tempo, vissuto tra i cappuccini, oramai sono 36 anni, davvero ho visto dei grandi cambiamenti, potrei dire dei miracoli da parte di Dio quando l'ho lasciato fare. A proposito di cambiamenti, tu sei stato a Camerino, a Leonessa, oggi sei a Giulianova, è vero che per tradizione quando cambi convento ti sposti a piedi, ovvero è possibile immagino? Sì, l'ho fatto fino al trasferimento precedente, quindi da Spoleto a Leonessa, 46 km, ho fatto in giornata, insomma, sono partito la mattina presto e devo dire che è stata anche abbastanza fatigosa perché si passava da 250 metri fino a un dislivello di 1.300, poi si scendeva fino a 1.000 in giornata e questo mi ha sempre dato la possibilità di, come dire, di portare con me non soltanto in quel giorno le cose che non potevo fare, insomma, però portarmi dentro, come dire, una rivisitazione, una rilettura del percorso fatto e di ciò che mi attendeva, cioè in quella giornata rivivevo delle emozioni, degli volti, degli incontri, le fatiche, le speranze che poi diventavano, e ricordo questo, il 12 agosto 2010 quando valicando un colle, 1.300 metri, vidi Leonessa e quindi mi sono, come dire, già proiettato in quell'ambiente che avevo conosciuto nel 1990 e mi innamorai subito di quel posto, le montagne, la zona, il paese, le persone di allora, quindi ecco mi porto dentro nel cammino che faccio e anche oggi stiamo programmando insieme a un gruppo di giovani un cammino dedicato a San Giuseppe da Leonessa, di 160 km, un peripro molto bello, quindi in questo cammino ritrovo un po' tutta la mia vita in contatto con Dio e con le persone. Ecco, questo cammino che stiamo facendo, se posso permettermi, molto bello, tocca 10 paesi dove San Giuseppe ha vissuto, predicato e anche compiuto dei miracoli e lavorato moltissimo, no? Sono tutti i paesi colpiti dal terremoto del 2016, quindi c'è Posta, Borbona, Monte Reale, Capitignano, Campotosto, Amatrice, fino ad Arquata del Tronto, Accumuli, Città Reale, Leonessa. Che bello. Fra Orazio, siamo ormai quasi in chiusura, abbiamo giusto un paio di minuti, io ne vorrei approfittare per chiederti una riflessione sul tempo di Quaresima che è un tempo favorevole come ben sappiamo e che Papa Francesco in qualche maniera ci invita anche a vivere in una maniera tutta nuova rispetto al passato. Quest'anno tra l'altro poi l'andare nel deserto attraverso anche le parole che lui ha utilizzato nel suo messaggio ci riportano all'essenziale. Allora quello che vorrei chiederti è qual è l'essenziale di cui dobbiamo tra virgolette anche spogliarci e quindi avere per portare avanti verso la Pasqua? Vorrei sintetizzare i tre momenti della Quaresima che sono appunto descritti il mercoledì delle ceneri come l'emosina, la preghiera e il digiuno con una bellissima immagine che ho così colto qualche tempo fa da un libro dove un bimbo chiede a sua madre che cos'è l'amicizia oppure potremmo dire che cos'è la Quaresima e la madre spiega a questo bimbo con una immagine appunto raccoglie da terra un mucchietto di sabbia e lo pone tra le sue mani poi comincia a stringere e la sabbia esce, esce fuori dalle dita. Il bambino ripete la domanda che cos'è l'amicizia? Che cos'è la Quaresima? La Quaresima è, lo spiega così la mamma, è un segno di libertà dove comunque tu scegli, scegli di vivere appunto queste tre cose, la carità e l'emosina, la preghiera, l'incontro con Dio e il digiuno, la forza in se stessi senza essere costretti, no? Altrimenti si perde tutto come si fa con la sabbia, quando stringi in pugno la sabbia va via. Ecco la Quaresima è un segno di libertà dato da Dio per crescere tutti insieme. Hai parlato di libertà, visto approfitto fra Orazio, ci hai raccontato che l'incontro con padre Pio in qualche modo è avvenuto tramite padre Guglielmo Alimonti, ti sei approcciato alla figura del santo. Invece con San Francesco, com'è avvenuto l'incontro con San Francesco d'Assisi? Perché tu eri rappresentante di Gelati, i tuoi genitori avevano un bar a Pescara, quindi come dire un altro mondo, stavi pensando anche ad un'altra vita, quindi sposarti e metter su famiglia. E poi il signore invece ha deciso che c'erano altri piani per te. Sì, era il 23 dicembre 88 quando in un incidente frontale, io guidavo il camion appunto, il mio camion, un altro camion praticamente non rispettando lo stop mi ha speronato, diciamo così, no? Me lo sono visto in cabina, la sua cabina nella mia cabina. In quel momento mi è tornato davanti così come un'apparizione, un frate che il 2 di maggio dell'83 ad Assisi, io ero ad un convegno nazionale con gli scout d'Europa, era una rupe di Assisi, questo frate fece una testimonianza vocazionale, io non ricordavo niente di lui né il nome né la figura, però questa immagine mi ha chiamato a cercarlo e gli ho chiesto di fare un'esperienza in convento e lui mi mandò a Spello il 26 dicembre. E poi sul mio, sulla plancia del camion io avevo sempre una piccola statuetta di San Francesco perché ho guidato per tanti anni i lupetti, gli scout piccolini, no? Allora erano il patrone San Francesco quindi ecco mi sono ritrovato lì a un certo punto a capire che quella era la strada forse giusta, dentro il convento di Spello. E allora ti seguiremo anche oggi e domani nella celebrazione delle 18 perché lo abbiamo ricordato sei il predicatore di questa settimana di quaresima nel santuario di Padre Pio, vorrei anche ricordare che tu hai scritto due libri, Il lupo e la fragola nel 2010 del quale abbiamo anche parlato perché sei stato ospite nei nostri studi e poi Il presepe di Greccio che hai pubblicato l'anno scorso in occasione appunto degli 800 anni del presepe di San Francesco. Grazie, grazie fra Orazio per essere stato con noi, come diceva giustamente Paola, ti seguiremo in queste due ultime giornate di predicazione e speriamo poi di risentirci anche per approfondire altri argomenti legati al mondo di San Francesco che è un mondo davvero straordinario in continua evoluzione. Grazie di cuore. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, pace e bene a tutti. Andiamo in pubblicità.